Buongiorno a tutti e benvenuti per ritrovati in un nuovo video sul mio canale. Ragazzi, questa sera, quest'oggi, scusatemi, questo pomeriggio, siamo qua per parlare di tennis. Quest'oggi siamo qua per fare l'analisi del tabellone del Masters 1000 di Miami. Già fatto in live con la direzione del tennis, è vero, hanno già giocato, diciamo, un po' i primi turni, però, comunque sia il tabellone ancora mettiamo una così folto di giocatori, quindi secondo me fare un'analisi adesso va ancora bene. E spero che l'apprezziate. Io vi ringrazio tantissimo per il supporto datemi nel video di ieri, purtroppo se ne arrivavano a soli non hanno ancora giocato, vediamo se riusciranno a giocare oggi, qualora dovessero riuscire a giocare oggi io vi parlo al post partita, ve lo faccio a prescindere. Ma se dovessero giocare oggi il post partita sarebbe oggi. Comunque sia, vediamo. Quando riusciano a giocare Yannick e Andrea, speriamo che riusciano a giocare il prima possibile, a prescindere da questo io vi invito a iscrivervi al canale. Siamo a 471, cerchiamo di arrivare a quota 500 entro la fine del mese di marzo, entro la fine di questo torneo che sarà un grandissimo torneo secondo me per Yannick. Oltre a questo mi invito anche a lasciare un bel like, poi a condividere il video a più persone possibili, mi raccomando, vostre amici, parenti, chi più ha una più le metta, cerchiamo di arrivare oggi a 475. Io ragazzi li ringrazio tutti e partiamo con l'analisi. Allora ragazzi, partiamo dal tabellone maschile, l'avevamo detto in live, ho già fatto i miei pronosti 5-6, me li ricordo. Tabellone maschile che sicuramente vede nel primo quarto di finale, nel secondo me nella prima semifinale, favorito Carlitos Alcara, Alcaraas, insomma, io sono fissato questa pronuncia spagnola, vede sicuramente favorito il tenista Mursiano, e io ragazzi credo che aiutavi, ci arriverà sicuramente, prima sfida per ottavi per i femmini di sapere quarti. Ci sono certi ostagli, magari Cioric, non lo so, mi sembra che Cioric avrebbe piuttosto Alcaraas una volta, comunque sia, forse una volta l'aveva messo in difficoltà, ma prescindere da questo ci sta Cioric, ma insomma Cioric non è un giocatore così osseo per Alcaraas, Musetti, lasciamo stare, ci sta scelto, perché magari qualora dovesse essere in grado di tirar fuori una prestazione Elite potrebbe metterlo in difficoltà, ci sta Dimitrov, ma io onestamente credo che Alcaraas sia il netto favorito per questo ottavo di finale. D'altra parte, gli diamo l'ottavo di finale in due spicchi, ci abbiamo Mannarino Dimitrov, insomma secondo me a questo quarto, sì, questo quarto andrebbe fino a Urkacz, l'ottavo andrebbe fino a Shelton, io poi credo che sarà Alcaraas-Shelton il primo ottavo di finale, dall'altro lato invece avremo Dimitrov-Ubiurkacz, secondo me sarà questo, questi saranno due ottavi di finale del primo spicchio, uno spicchio è un quarto di finale intero, quindi vi dico Alcaraas, secondo me avremo Alcaraas-Shelton senza troppi problemi tutti e due, per quanto magari potrebbe trovare insidia nel percorso, però non credo, e dall'altro lato avremo Dimitrov e Ubiurkacz, quindi secondo me in questo caso verranno rispettate le teste di serie. Poi invece il secondo spicchietto di tappellone sono spicchi di tappellone, perché è quarto in effetti uno spicchio, abbiamo il quarto che va da Sasha Zwerp, testa di serie numero 4, dato il ritiro di Novak Djokovic le teste di serie a scala di 1, quindi ovviamente il 2 diventa 1, il 3 diventa 2, il 4 diventa 3, il 5 diventa 4 e così via discorrendo, fino al 33 diventare 32, poi ovviamente le teste di serie finiscono là. Comunque sia, per scendere da questo vi stavo dicendo, Zwerp ragazzi, che ha Eubanks, che è un giocatore che può essere iostico, a Augele, e sì in particolar modo che potrebbe essere iostico, più di quanto lo possa essere Eubanks a mio avviso, però secondo me la fine Sasha Zwerp va tanto meno, ci arriverà a giocare gli ottavi di finale, contro 1 secondo me tra Serondolo e Cacciano, per ragazzi non mi ricordo chi abbia preso, credo di aver preso Serondolo in live, comunque sia io, se ho preso Serondolo, se ho preso Cacciano, ragazzi ho sbagliato, però io vi dico che ci arriverà, e vi dico che ci arriverà Serondolo, poi se sbaglio, nel senso se in live ho detto un'altra cosa, e se mi sono contraddetto, correggetemi, ma credo che avessi detto Serondolo, secondo me Cacciano non ci arriverà, perché Serondolo ragazzi, in questo momento ci ha dato sempre molto bene, eppure quest'anno secondo me è una bella chance di far bene, perché questo è il quarto di finale, nel quale abbiamo i due giocatori più alterni forse, non hai né Alcaraz, né Sinner, né Medvedev, hai Zwerp, perché insomma, ti può far bene, ma ti può perdere subito, hai Rine che è molto alterno, per quanto l'abbia messo a parte e abbia dato fiducia, quindi se non è Serondolo potrebbe magari trovare questo buco nel tabellone, tra due comunque sia vi dico Zwerp, Serondolo, e sotto vi dico Teminar, Rune, senza troppi problemi, ho messo il Rine al Fanta, mi auguro che il danese faccia bene, e mi auguro che mi porti a casa tanti punti per il Fanta Tennis. Terzo spicchio di tabellone maschile, quello che va da Kasper, Ruud a Danil Miedvedev ragazzi, quindi 3 contro 7, Ruud in ripresa magari, un po' un Ruud migliore della passata stagione, un Ruud che quest'anno la preparazione non sembra averla sbagliata, è un Ruud che però, secondo me, si fermerà in ottavi di finale, ma agli ottavi ci arriverà, secondo me, l'ottavo sarà Ruud contro Taylor Fritz, mi aspetto un grande ottavo, secondo me sarà un grande ottavo tra i due tenisti, tra Kasper, Ruud e Taylor Fritz, ma un ottavo nella quale alla fine prevarrà il tennista Stelestrische, invece l'altro ottavo di finale di questo spicchio, sarà secondo me Umberth Miedvedev, sarà un rematch della semifinale della TP500 di Dubai, semifinale che andò a Hugo Umberth, semifinale che si è giocata un mese fa, e io credo che questa volta ci sarà la vendetta di Danil, quindi io credo che Danil non si farà scappare questa opportunità di arrivare tanto a me nei quarti, non dimentichiamoci che Miedvedev ha un bel bottino a difendere, quel di Miami, campione uscente, quindi non può ottenere punti, ma può solo perdere, quindi Miedvedev deve stare molto attento, a mio avviso, secondo me però il russo conquisterà gli ottavi di finale, e poi anche i quarti, ma l'analisi di quella fase del torneo, la andremo a fare successivamente, tra qualche minuto, tempo di finire questo lato qua. Allora, poi questo lato qua che va da Rubliov, che ha perso da Machac, quindi Rubliov ormai è uscito, a Sinner, io credo che avessi detto che ci sarebbe arrivato Rubliov, e io a questo punto vi dico che ci arriverà Bublik, se non ha perso anche lui, perché mi sembra che giocasse con Arnaldi, ma credo che non siano riusciti a giocare, fatemi cercare un attimo, perché non vorrei starmi sbagliando. Bublik, Bublik gioca oggi con Matteo Arnaldi, secondo me arriveranno qua, ovviamente, Yannick con Paul, e là, secondo me arriverà Bublik, io avevo detto Bublik e Rubliov, a questo punto vi dico Bublik e Machac, quindi Bublik, Machac, e Tommy, Paul, Sinner, quindi secondo me Bublik, io uscirò a battere Stefano, se tizzi pass, che adesso si trova di pronto a Shapovalu, partita, diciamo che a blasone, ma secondo me i due, non hanno, adesso non sono nel miglior periodo, non secondo me, obiettivamente, oggettivamente, non sono nel loro miglior momento, a livello di carriera, quindi credo che non, sarà una partita, sì, con delle scintille interessanti, ma non intrattenente come, come la sarebbe potuta essere qualche anno fa, quindi qua vi dico Bublik, Bublik, Machac Bublik, e Paul Sinner, torniamo alla parte alta di tabellone, parte alta di tabellone, ragazzi, nella quale Carlitos Alcaraz, secondo me, batterà Ben Shelton, e secondo me, Gregor Dimitrov batterà, batterà, sì, Gregor Dimitrov batterà, Ubi Urkac, a mio avviso, quindi, secondo me, avremo un quarto di finale tra, Carlitos Alcaraz, e Gregor Dimitrov, quindi, test di serie 1, voto di testa, tra serie 11, invece, la parte bassa, secondo me, avremo, Alexander Zverev, Sasha Zverev, che batterà, Holger Rune, quindi, secondo me, qua, si rispetteranno le teste di serie, per quanto riguarda, invece, la parte bassa di tabellone maschile, abbiamo, Kasper Rud, che secondo me, è perderata di Lord Fritz, e Medvedev, che batterà Ugo Umberta, quindi, avremo, secondo me, un quarto di finale tra, Danil, anzi, scusatemi, diciamolo, nell'ordine corretto, tra Ugo Umberta, tra Taylor Fritz, e Danil Medvedev, Invece, nel quarto ed ultimo sficchio di tabellone, avremo un quarto di finale tra, Mashak, Mashak Bublik, che secondo me, avremo un quarto di finale tra Bublik, e Yannick Sinner, qui, questo secondo me sarà il quarto di finale, Mashak, Bublik, batterà Mashak, e Sinner batterà Tommy Paul, per quanto il Denisa, Stelestrisce, è stato in grado di, trappare un set a Medvedev, di giocare molto bene con Medvedev, se non è vero, io sono contro Medvedev, Alcaraz Dimitrov, vi dico Dimitrov, e Alcaraz, scusatemi, invece tra Riune e Zwerve, vi dico, vi dico, Holger, Riune ragazzi, perché l'ho al Fanta, e anche perché secondo me, giocherà un bel torneo, io me lo auguro, perché ragazzi, vorrei fare punti, quindi, vi dico, Alcaraz Riune, la prima semifinale, quindi finale, semifinale, next gen, e la seconda, Medvedev Sinner, secondo me, Medvedev batterà Taylor Fritz, e Yannick batterà Alexander Puglik, quindi quasi, qua, i big three, i nuovi big three, mettiamola così, secondo me, arriveranno alle semifinali, tutti e tre, poi abbiamo, dall'altro lato di tabellone, ragazzi, non l'altro lato, tra Alcaraz e Riune, vi dico, Carlos Alcaraz, e tra, Fritz, no, scusate, tra Medvedev Sinner, qui dico, Yannick Sinner, in una partita, secondo me, che sarà molto difficile, invece, finale del Masters 1000, di Miami, che secondo me, sarà tra Cardedos Alcaraz, e Yannick Sinner, finale, che secondo me, andrà all'altro tesino, io vi dico, se non sbaglio, lo score che ho detto in live, vi dico, tre set, e lo score che dico io, è quello che ho detto in live, spero di non starmi sbagliando, il mio score è, Alcaraz, scusate, Alcaraz, Sinner, finirà secondo me, 5-7, no, scusami, sì, in favore di Sinner, finirà, forse 5-7, 7-6, 6-3, avevo detto, una cosa del genere, oppure 7-6, 7-7, 7-5, 6-3, non mi ricordo, comunque sia quello che ho detto in live, è il risultato dal quale cerco di essere coerente, passo a femminile, ragazzi, adesso devo scappare, quindi ciò che è andato il più veloce possibile, femminile, ragazzi, lo farò molto più velocemente, ma vi interessa anche a voi meno, Spiontech, ragazzi, secondo me, arriverà in quarti di finale, con, con, Jasmine Paolini, ragazzi, questa è anche di Speranza, quindi Spiontech Paolini, poi nella parte sotto di tabellone abbiamo Coco Goff, che secondo me arriverà insieme a Crestea, poi, altra parte di tabellone, Sacca, che secondo me confermerà il grande periodo di forma, e, arriverà a sfidare, che dovessi detto, Ribachina, poi abbiamo Sabalenka, che secondo me non ce la parà, io ho misi, se non sbaglio, Kalinina, con Azarenka, quindi, parte alta, Spiontech batte Paolini, ai noi, invece, parte bassa, a mio avviso, vincerà Coco Goff, quindi semifinale tra la 1 e la 3, secondo me Sacca ribatterà Ribachina, e secondo me Kalinina batterà, secondo me Azarenka batterà Kalinina, quindi avremo Sacca, Azarenka per quanto riguarda la parte bassa, per quanto riguarda la parte alta, invece, Spiontech contro, contro, contro Goff, secondo me vincereà il Gashbiontech, e Sacca, contro, contro, contro che avevo detto, ragazzi, scusate, Sacca, Sacca, contro, Azarenka vincerà Sacca, quindi, Gbiontech-Sacca, il rematch della finale di Indian Wells, e vincereà il nuovo Gashbiontech. Grazie a tutti, grazie al supporto, noi ci vediamo stasera, domani con un nuovo video, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete la campanella, e commentate, facendovi sapere la vostra, grazie a tutto il supporto, a domani con un nuovo video, ciao.